Salve a tutti e bentornati. Oggi vi presentiamo dei nuovissimi prodotti della Blackmagic, l'ATEM 2 Broadcast Panel e l'ATEM 2 Production Switcher. L'ATEM 2 Broadcast Panel è un pannello di controllo professionale, ideale per la realizzazione di complessi eventi in diretta. Come si può vedere è dotato di un design molto accattivante e risponde perfettamente alle esigenze dei professionisti che hanno bisogno di tenere sotto controllo tutti gli effetti e le transizioni disponibili direttamente con un cavo Ethernet collegato allo switcher di controllo. Passiamo ora a vedere le caratteristiche tecniche dell'ATEM 2 Production Switcher e le sue funzionalità nello specifico. L'ATEM 2 Production Switcher è dotato di 16 ingressi come si può vedere tutti su base SDI e un HDMI. Invece abbiamo da quest'altra parte 18 uscite, anche questi su base SDI, ma abbiamo anche la possibilità di sfruttare l'HDMI per effettuare un multi-view. L'ATEM è dotato anche di un ingresso USB 3.0 di tipo AUX 1 e permette a tal proposito la cattura di immagine direttamente sui PC per poter quindi poi lavorare in post-produzione e utilizzare inoltre anche un segnale di tipo 10 bit per risoluzione full HD. L'ATEM 2 Production Switcher porta con sé in dotazione il software del pannello di controllo, come si può vedere in video, e questo software è compatibile sia con Mac che con Windows. In pratica sostituisce in tutto e per tutto quella che è la console di controllo, quindi l'ATEM Broadcast Panel. L'ATEM gestisce un'incredibile funzionalità SuperSource che permette di utilizzare le diverse transizioni, che siano DVE, Sting o DIP, sulle diverse quattro chiavi upstream. Inoltre dal pannello è possibile gestire la modalità Program e la modalità Preview e associare a questa le diverse transizioni, in questo modo da poter scegliere cosa andremo a vedere successivamente e ad associare ad ogni pulsante nella Preview quello che poi verrà effettuato nella transizione. L'ATEM ha la possibilità di gestire le transizioni manualmente, così da scegliere l'effetto desiderato per poi mandarlo in onda sulla Preview o sul program. L'ATEM, oltre alle quattro chiavi upstream, ha la possibilità di gestire due chiavi downstream per la gestione dei titoli e dei log in sovraimpressione. Quindi in conclusione possiamo dire che l'ATEM Broadcast Panel, in combinato con l'ATEM Production Switcher, è la soluzione ideale per realizzare produzioni dal vivo e ovviamente per ogni altra informazione potete contattarci sul nostro sito www.dunogroup.it Grazie Grazie Grazie